Grazie per dire soprattutto... Domenica 28, spazio ai giovani. Il meeting delle etichette indipendenti di Faenza festeggia 20 anni di successi al Ravello Festival con l'evento May Day. A salire sul palco tre band italiane indipendenti emergenti, i toscani Piccoli Animali Senza Espressione, i romagnoli Eku e il giovane cantatore Enrichi Anelli. La fondazione Ravello ha legato a questo evento un concorso AAA Reporter Cercasi, dedicato a tutti gli appassionati di nuove tecnologie. Tutti coloro che saranno a Ravello e seguiranno il May Day potranno inviare il loro video racconto della durata massima di due minuti e vincere due biglietti per il concerto all'Alba 2015. Ancora musica lunedì 29 dicembre con l'orchestra di fiati Costa d'Amalfi che dopo una masterclass di tre giorni verrà diretta dal belga Jean Van der Roost, il più noto ed apprezzato compositore e direttore di musica per fiati al mondo. L'indomani martedì 30 dicembre si cambia decisamente registro con Reis e Fosso Mesolella che porteranno a Ravello il loro ultimo lavoro da Goreed proponendo un escursus eclettico tra canzone napoletana e rock con qualche suggestione etica mediterranea. Dopo la pausa dell'ultimo anno la musica ritornerà a Capodanno giovedì 1 gennaio con un omaggio quasi jazz al grande Domenico Modugno. Sul palco un gruppo ormai colladato formato da Peppe Servillo, Javier Girotto, Fabrizio Bosso, Fudio Di Castri, Rita Marco Tulli e Mattia Barbieri. Sabato 3 gennaio spazio ad un altro grande interprete italiano Cristiano De Andrè che proporrà al pubblico i brani del proprio repertorio e alcuni dei grandi successi di Faber per una scaletta e un concerto ricchi di intense emozioni. A chiudere domenica 4 gennaio gli appuntamenti del festival di fine anno targato Fondazione Ravello un concerto che rientra nel programma della prima edizione del festival internazionale di musica antica Soave sia il vento ideato dalla Fondazione Pietà di Turchini e promosso dalla regione Campania. Non solo festival però, a margine degli eventi la Fondazione Ravello organizza dal 30 dicembre al 6 gennaio un laboratorio a cura dei musicisti Pasquale Mirra e Danilo Mineo dedicato ai bambini dai 16 anni che alla fine del percorso formativo si esibiranno sul palco dell'auditorium Oscar Nimaier.